Il ciclocross per me è stato all'inizio, è tutto iniziato da lì, ho iniziato a correre nel ciclocross e nella mountain bike quando ero allievo junior e quindi negli ultimi anni su strada gli impegni avevano fatto sì che non potessi partecipare ad alcuna gara quest'anno invece c'è stata l'occasione di poter partecipare anche a solo qualche gara e quindi l'ho colta al volo Io come ho sempre fatto ringrazio tutta l'UAE Team Emirates per il supporto che mi ha dato in questi anni adesso è arrivato il momento di fare una nuova avventura ma insomma mi godrò queste ultime due gare sicuramente sia oggi che martedì 29 in Maglia Hawaii Grazie a tutti Grazie a tutti Quel terreno era parecchio duro oggi Sì questo è vero ciclocross insomma Sicuramente verrà buona per le gare su strada